eccoli qua, faccio un po' la musica, attenzione, attenzione, non ci facciamo male, c'è una rimonta oh, ti ho pregato all'ultimo, prima coppia, seconda coppia forza mamma, no, no, lei che ce la facciamo, stavo dicendo una cosa, mi sono inzito oh, alla misera mamma no, vabbè, un papà che dice passa, non ce la faccio, almeno io qui, ok ok, fategli un applauso a questi genitori, bravo, bravo alla signora ha vinto lui con un rascio finale di un, allora, prima coppia, seconda coppia, terza coppia adesso diamo i sacchi alle altre coppie per partecipare voi partecipate, prendete il piatto nel frattempo e voi partecipate alla rascio finale quella che vedrà la finalistica, qui assegneremo dei punti massimo, questa è la corsa con sacco, ok, ci siamo, siamo pronti no, i figli entrano tranquillamente, c'è chi usa una tecnica particolare prima entra il papà e poi fa entrare la figlioletta vediamo un po', allora, no, così si fa, dovrebbe entrare ecco, adesso signora, lei, ecco, papà, la signora, è stata bravissima, complimenti aspetta che qua c'è il papà che ancora non ha capito come si mette il figlio nel sacco ecco, metteci prima il papà e poi ci metti il figlioletto, vai, vai da papà adesso, eh, vai, vai, entra, entra, entra che adesso, adesso richiede i nuovi allora, praticamente, ecco signora, si insacchi vengo su termine, Massimo, vi ho detto alla signora, si insacchi, eh Presidente, complimenti per questa bella giornata da dedicare ai genitori e ai figli soprattutto allora, ci siamo no, sta arrivando signora, si, certo, va aspettate, ci siamo pure qui ci siamo allora nel frattempo chiedo i nomi, tu come ti chiami? Luciano, tu invece giovanetto? Gioele, con la G? Gioele e tu invece piondino? Noa Noa, ma che bello, Gioele, Noa siete tutti di Lago Negro? Sì? No, tu invece? Mia 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 chi non ricorda, eh? No, più giustamente i genitori oggi scelgono di i nomi corti così facili uno che deve chiamare Pierluigi, no, Mia è più facile tu come ti chiami? Samuel e tu invece? Inforia con la mamma sprint qua ma adesso, sei insercato in un attimo sì, no, aspetta secondo me dove sei? forse dobbiamo allargare un attimo no, perché c'è un provvediamo subito noi abbiamo i mezzi per poter risolvere qualsiasi tipo di problema in qualsiasi tipo di momento lo stiamo allargando il circuito qui allora ce la possiamo fare, ce la possiamo fare mi manca soltanto il suo nome? sei riuscito a insaccarti papà? ok, perfetto come ti chiami tu? Alessia bello che infanzi sei ragazzi secondo voi chi vince? tutto io dico o maestro chi vince? chi vince? chi vince? no, no vince, no, eh ah, perfetto un ottimo modo per poter pigerire Massimo, signore, mangiate la pizza con la cipolla se di questa notte moriranno con gelati perfetto, ok io vedo dall'altra parte le prime tre coppie partecipano alla finale con le altre tre coppie che sono state vincitrici della prima crunch dico bene, direttore ci siamo? Massimo, vai tre, due, uno via piano, eh piano, piano passa un al mass sprint che rimasto nella pizza con la cipolla piano, piano, piano piano, piano, piano